Sì, è successo un incidente, ok, la localizzo a Rovellasca, è lì che si trova? Sì, a Rovellasca, in via Monza, all'altezza della Croce Azzurra? Sì, siamo all'altezza della Croce Azzurra. Ok, rimanga lì, non le passo l'emergenza sanitaria, non abbandonire la chiamata per cortesia. Sono ero agli, mi trovo lì, mi ha detto. Sì, è successo un incidente. C'è un incidente, ci sono tante persone coinvolte, aiuto. Quanti mezzi sono coinvolti? Allora, io vedo un mezzo agricolo, un'auto, una moto, non saprei. Il mezzo agricolo trasporta materiale pericoloso? No, non mi sembra. Quante persone sono coinvolte? Penso sei, sette. Se li vede, riesce a vederle. Riesco a vederle. Sono tutti svegli? Allora, tre ne vedo che si muovono, due no. Sono bambini? No, bambini non ce ne sono. Qualcuno è incastrato sotto il trattore? Sotto il trattore no, però sotto una macchina la moto. Conferma che se t'anno dell'asca inviamo unza due? La confermo. Stanno arrivando i soccorsi e avvertiamo le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Venga libero il telefono. Arrivo. Arrivo i soccorsi, buongiorno.